Sino a pochissime settimane fa giravano sul web ed in tv le immagini fotografiche e video che mostravano materiale ingombrante accumulato in diverse zone di nicosia di certo non adibite a tali depositi. Dal 10 ottobre è finalmente partita la raccolta differenziata per le utenze non domestiche ed il deposito temporaneo di materiale elettrico ingombrante. Ma forse non tutti sono informati in quanto continuano imperterrite le discariche non autorizzate nelle solite zone. Questa mattina ho voluto personalmente provare a percorrere il tragitto necessario sino alla contrada Canalotto San Giovanni per depositare il materiale elettrico ed elettronico guasto della mia azienda che si occupa di informatica. Come pure i cartoni con i quali tali materiali mi erano stati consegnati. La prima cosa che ho notato sul posto è l'ambiente pulito ed ordinato. Ci sono scarrabili che raccolgono il vetro, altri per la carta ed il cartone e altri per il materiale ingombrante e i rae. Tutti già abbastanza pieni. Un noto compattatore elettrico è utilizzato anche per l'umido. A quanto riferito l'impiegato presente sul posto, le persone sono invogliate a partecipare alla raccolta differenziata, ma manca l'informazione. Ecco la ragione di questo video. Il deposito temporaneo è aperto ogni giorno, da lunedì a sabato dalle ore 8 alle ore 12. Si spera dunque che adesso i cumuli di rifiuto, soprattutto quelli ingombranti, non saranno più presenti negli angoli delle strade e soprattutto all'ingresso del paese. Anche perché l'amministrazione comunale ha pronto un piano con la videosorveglianza e sono previste sanzioni amministrative e penali anche pesanti per i trasgressori.